Ciao a tutti, parliamo di album di figurine anastatiche, ovvero copie fedeli all'originale di famosi album come questo qui, Album dei calciatori della Panini del 70-71. Stiamo parlando quindi di una copia che praticamente dovrebbe essere una riproduzione al 100% dell'album della Panini. Qui abbiamo questa copia che praticamente è nuova e parliamo delle cose positive e poi anche di quelle meno positive di questo album. Allora, positivo, prima cosa, la grandezza, le dimensioni, è identico all'originale, non è più piccolo, questo è importante. E poi, molto bello, questo album ovviamente è nuovo, è che l'internamente, sia come qualità della carta che ovviamente come impaginazione, è identico all'originale. E' anche bello poter sfogliare un album a distanza di più di 40 anni, originale, completamente vuoto, dà anche così una piccola emozione, una piccola soddisfazione. Ricordo questo, l'album dei calciatori, 1970-71 della Panini, eccolo qui. Cose un po' negative, ma la copertina, la copertina anche se non si può vedere, è di cartoncino, ma è di un cartoncino opaco, non è lucido come quella della Panini originale, quindi questa è già una differenza abbastanza importante. E passiamo alle figurine, ecco le figurine, anche se non si può ovviamente vedere molto bene, queste figurine sono molto più sottili, sono stampate su cartoncino, ecco cartoncino lucido, e quindi sono differenti nella qualità della carta, proprio con quelle originali. Mentre invece sono identiche nella riproduzione. Infatti questa figurina che è di buon insegna, dietro, come riportava l'album, vi è il tabellino con la biografia del calciatore. L'importante è questo piccolo stemma che vediamo sulla sinistra, che praticamente serve a distinguere la figurina da questa copia, dall'originale, questo è molto importante. Quindi possiamo dire, per il momento, questi elementi ci danno delle figurine che sono praticamente identiche alle originali, però come qualità di carta, di stampa, ovviamente c'è una differenza molto forte, giustamente molto forte. Altro punto un po' negativo sono gli adesivi. Gli adesivi, come in questo caso, anche il serretto di corta adesivo in laus, via discorrendo, è una figurina da incollare normalmente. Quindi adesivi niente. In questo album c'è gli adesivi per quanto riguarda i scudetti delle squadre e anche i disegni di prosdocimi, delle caricature che ricordano le azioni di gioco. Bene, è tutto. Quindi ricordiamo, in maniera molto simpatica. Positivo, grandezza dell'album, internamente la qualità delle pagine, del colore, e un po' meno positivo perché possiamo dire che abbiamo sempre una cosa molto bella e dal punto di vista collezionistico interessante per chi vuole compilare, completare un album in maniera così quasi particolare e certosina, abbiamo la copertina che è opaca, anziché lucida, e le figurine, praticamente, che sono di qualità un po' diverse sulla carta, ma che sono praticamente identiche alle originali. E, altra nota, non molto positiva, sono gli adesivi, che non sono adesivi, ma sono praticamente molto simili sulla qualità, in questo caso, al raso, ma sono sempre da incollare. È tutto. Un saluto dagli album anastatici della Panini. Un saluto dagli album anastatici della Panini.